Mike, che ti ritrovi un caricabatterie? Sì, Dani, sta là. No, qui l'ho lasciato a casa. Eh, ma non carica. Eh, qua è pure rotto. Dani, fa un po' di contatto. Muovilo, poi va, sicuro, perché lo carico sempre. Devi trovare la quadra. Teso, deve essere teso il filo. Afferra il tavolo al centro. Ok. Gamba destra alta. Sì. Alza la mano sinistra. Meno. Meno, Dani. Fletti le gambe, le gambe. Flet. Contrai l'addominale. Ispira. Despira. Sta caricando. La prima di là giù. Eh, te l'ho detto, Dani, è facilissimo. Ma hai mai caricato tutta l'alfabetità? Che state facendo? Sto caricando il cellulare.